Allora, i risultati sino ad oggi sono quelli che abbiamo individuato nella mostra Caravaggio-Napoli che insomma è stata credo visitata da molti e i sentieri della ricerca sono ulteriori acquisizioni su vari dipinti di Caravaggio e anche su rapporti tra Caravaggio e gli altri artisti del suo tempo. Beh, avremo molte novità relative appunto a dipinti come la Maddalena di cui hanno parlato tanti giornali ma non solo, abbiamo delle novità relative alla flagellazione della Cardinal Borghese e poi abbiamo molti dati nuovi in relazione alle lettere che sono state scambiate tra Costanza Colonna ed altri committenti di Caravaggio e direi così.